Ero mutato, ho detto buonasera Buonasera C'avevo il pulsante del mutaggio attivo nel mixer Quindi ho fatto una figuraccia No, tu non fai mai figuracce Caschi sempre in piedi come caschi Grazie Alla fine hai letto oggi? Nonostante il vento che ti scompigliava la chioma? Si Era, si stava di un bene Cioè quando andava via il vento effettivamente era caldino Poi però appena andato via il sole si pelava dal freddo Quindi sono dovuto rientrare L'ho letto un po' L'ho letto fuori nel terrazzo Con la mia seggiorina d'anziano Giù in Calabria che c'ho il terrazzo Anch'io mi divertivo a leggere Io mi ricordo la fine di Io non ho paura Sul terrazzo giù in Calabria Di Niccolò Amaniti Molto bello tra l'altro Hanno fatto anche il film con di roba tant'uomo Bello Che tra l'altro sarà a LOL Chi ride e fu orviato Si Sarà a LOL Ma chat voi come state Ma siete i naip Eh? Per stasera Buonasera Eh Sprint ma tu sei i naip per questa sera? Che c'è che devo essere io? I naip Ah i naip Cazzo come hai detto I naip Mi pare a bere Io a moro sono carichissimo Una bestia proprio No io non tendevo per l'Ital Company Però Ah ok Per la cosa dolma? Amici ricordiamoci di aprirlo dalla mod Ma stasera All'eventuno E Sprint C'è il future game show Come c'è finito uno specchio d'aglio E' una copiericola Eh Fanno vedere 50 giochi indie Ok Tra cui Anche Anche Silksong Si è confermato Però fanno vedere anche Enotria Con la data Perché effettivamente Ah giusto Ha dovuto un attimo Chissà Potremmo fare la bet Se anticipato O posticipato Ma è anticipato Il problema è che se lo fanno uscire Tipo fra pochissimo C'è da cosa Sdommago Sdommago No ma non sarà Tra poco Secondo me c'è inizio maggio Inizio maggio È un mese prima di Elder Ring Secondo me È troppo poco Già basterebbe inizio giugno Secondo me No inizio giugno No a moro Se lo fai troppo vicino Vabbè c'è a fine giugno L'espansione No a moro Se lo fai troppo vicino Tutti compro le note Giocano le note Esce Elder Ring Tutti buttano via i note E giocano le note Vabbè ma le note L'avranno finito Deve essere lontano Un bel po' Hai capito Non è quel gioco Che una settimana sparisce O vuoi una roba Che continui No Una settimana sparisce Eh adesso lo moro Però è un borro E spera Rimani dai che Rimani con noi A guardare il future game show O devi andare a A minne Non so mori Avrei un po' a cagare In questo momento Allora dove vai a cagare Stai a sentire Apriamo Apriamo coso Va là Che dobbiamo giocare Dai Sto cazzo di giochi Se no ci mangiamo il tempo È un disastro È arrivato il gas Poi magari ti Poi cosa c'è Quell'altro È arrivato il gas Esprit Il gas? Sì Certo Cazzo vuol dire Un altro gas È una bolletta Ah la bolletta Una cosa Perché non vedo La mia camera Fotocamera Aspetta che devo Update Grazie Seba Mi è morta La webcams Entra Entra nella webcams Non sai come è morta Amora Aspetta Come ti è morta La webcams Ah ok Sei riattivata Per caso la stanza È buona Non c'è La stanza ancora Presumo Non so Contro l'amoro Dimmi Ancora prende il gioco Io poi Ah Come si faceva Ravanare qua Aspetta Eccolo Faccia di pirla Scusami L'aggiornamento di Lettel Dovrebbe uscire Settimana prossima Giù di lì Grazie Poggers Allora Che spauri Poggins 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 Ma è un imbecitto In modo da linguaggio Espre te Scusa Siamo diventati un canale Più serio Cosa che non posso dire È vero queste cose Eh non te lo posso dire Siamo peggiorati Probabilmente Sempre di giusto Allora Allora La partita è Schiavo a vita Interessante anche questo Aspetta Fammi fare Io Io Aggiorno Ma è sempre Bolz La stanza Che mi esce fuori Quindi non so Ma per me è quella giusta Marco Entra Eh mi sa che quella lì Ha sto po' O anche German chill Sono dei tedeschi Molto tranquilli Vabbè lì Marco Se vuoi Se pari tedesco Vai tranquillo E non parlo tedesco Non so dire solo Führer Quelle cose lì Non far vedere la live a Carlotta Non la far vedere a Carlotta A paletta Moro Modo la linguaggio Subito parlai di Führer Che c'entra Ma quella è una Führer è semplicemente La parola tedesca Per dire la stessa cosa Che succede Ma io non posso più usare Steam Perché ragazzi Non lo so Molto Non ballato No Credo sia Traslato No adesso funziona Non so Ah mi devo stiracchiare Eccoci qua Devo mutarmi Tra posto Aspetta devo entrare Nel cazzo è vero Sono mutato su Discord E ci abbiamo un sacco Guarda che roba Oddio che scatti Ma è pieno Dice L'ho fatto sbagliato Ma è pieno Dice che non posso entrare Ah scusami Ma avete fatto Sperta ora Dice che l'hai fatto Sperta il giusto Di gioco Mi dimentico sempre Dopo aprire quelle mod Eh pure tu Non l'hai sbagliato Mi sa No io l'ho perso E si è entrato Hai sentato Ho cliccato vanilla Forse Fai vedere Ah forse ho fatto Start vanilla Io E anche io E infatti Io l'ho fatto BOD E sono il dato No non puoi Vabbè Grazie Capibara Che ormai Moro non si può fare Senza mod Ormai Eh ma vedrai Che una volta Bravo Marco Grazie Sperta Sei sempre un mago Il mago Del mio anno Bello Marco vuoi vedere Una carta di One Piece Intanto L'aspettiamo Cosa Vuoi vedere Una bellissima carta di One Piece Che ho trovato Hai visto che va in pausa Tra settimane Ma quello Vado a Marco Ormai Tanto Sono già che finirà Nel 2020 Forse Il 2020 è passato Comunque Sì Mi sono rimasto un po' Bloccato nel tempo Mi sa che è rimasto lì Ho smesso di fare live Il tempo fermato Per sempre Eh ma lo sai che finisce Il 2015 Cretino Eh no Marco Perché poi Fappapoco Torniamo Che fappapoco Scusa E dopo Cristo Torniamo indietro Poi Hai detto Hai detto fappapoco Però Anche io ho detto Non so Cosa dici Ma ragazzi Ma Steam È sotto Tranquillo Aspetta Ghezzard Che faccia Ragazzi Ma c'è Frazza In chat Perché Hai fatto quel movimento Molestatore Sessuale No Era il ciclone Che faceva la mossa Vai Che chiamava la mossa Il ciclone Che mossa La mossa È del ciclone Era la mossa Ma che mossa Ma il ciclone Marco Sì Marco più stand-dive Più gli parte il cervello Ciclone è il film Con pienazione Facciano la mossa Mi muto Ma che la mossa del Puma Adesso siamo qui E poi dovremmo sistemare Oh zio Che paura Di quanto sto detto Avevamo degli oggetti Ma Figa Bella Bella Non inizia Esprit Quanto ci mette Esprit E non ne entrava Quanta roba abbiamo Buono Siamo tutti Andiamo a consegnare Ancora un giorno Spero che gli eser Sì basso Non c'ho l'esc Eh Il problema è questo L'intervento Non dobbiamo morire tutti Ma in realtà Non mi va il tasto ESC Tremmo anche saltare Ok forse Non mi va il tasto ESC Come hai fatto a far andare il tasto ESC Eh Non so Prendiamo tutte le case Perché ne partite Vabbè andiamo Eh ma non mi va il tasto ESC Ragazzi Allora devo prendere Aspetta Dobbiamo Aspetta Come siamo Un giorno Ah una torcia è qua Una torcia Io non ho prendo Un pianeta più facile Tuttanto Qua ci sono quattro torce Un walkie talkie Ma fai Due pare Su che pianeta siamo Scusa Dime È quello difficile Eh beh scendiamo giù qua Scusa È che non dobbiamo morire tutti Sennò Eh ho capito Lezza Lezza lo sento un po' bassino Sì C'avevamo 1219 Nella nave Ma come è bene affatto A fare tutti sti soldi L'ultima volta Eh ma guarda che siamo fortissimi Beh c'è un botone di roba Che per le cose che a me le segno È qua Io prego una torcia E una radiolina Ah facciamo walkie talkie qua eh Facciamo walkie talkie qua eh Facciamo walkie talkie Aspetta La torcia la voglio questa Aspetta Aspetta eh Sono 25 Riuscirò ad arrivare Almeno ai 69 anni Il vao Vediamo Pettone La malizia negli occhi di chi guarda L'avevo sfogliato Ma era la prima cosa che ho letto Eh Non era così La malizia negli occhi è un'altra cosa Ti devi dalle palle Attivate tutto Ah sì ma il volume è È greggio signor volume Non c'ho le esca ancora comunque C'è che ho walkie talkie? Io ho tutto Grazie giallo Come era per parlare walkie talkie Non mi ricordo mai Come si butta la torgi A posto E' quella figa che ti tolge Ma scusa Io? E tu inculati Ah ok Andiamo 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 dai che dobbiamo camminare Ma non c'è l'acqua Ma non c'è l'acqua Non sta piove Sta piovendo Sto piovendo? Ma solo Si sta piovendo effettivamente Però non è un temporale Cioè non ci sono i tuoni Non c'è nessuno che pigliato C'è l'acqua C'è l'acqua C'è l'acqua Vieni a sinistra A sinistra Ma dov'è? Ah è lì l'entrata Ecco Eccoci qua Io vado qua Sulla Ma io non vedo E' buio E' buio Qua sotto cosa c'è? Non so Non ho acceso la radio Aspetta Che sei scemo Oh le bombe mie Bello Moro Oh c'è una tagliere C'è una scalinata A metà c'è una mina Stavi attenti Va bene capo E poi E poi da niente Riesce a fare le cose Ma non credo Sulla sotto il vuoto Ah è vero Le scommunication Non le abbiamo fatte Le bets Le cose Come si chiamano Le scommessone Non le abbiamo fatte mica Uh le bottles Come le portare In Valpadania Ragazzi ho sentito il rumore Io ho sentito il rumorino Ma niente Ma Aspetta che ho trovato roba io Oh no No Cos'è capo Ah l'hai fatta tu Corvo Va bene No il molleggiato sopra No il molleggiato no Cosa? Il molleggiato Ma dove sei? Sono sopra dove c'era la mina sulle scale Ho sentito lo smollo Ho sentito lo smollo Sta scendendo C'è anche quello grosso E per i tocchi ovviamente Qui va da quella stanza qualcuno Allora dagli azzar C'è la merda Più totale ragazzi No c'è anche quell'altro Ho sentito un rumore terribile Allora Scappa C'era anche C'era anche lo slime Slime e peperosa Tra l'altro Andiamo via Fanculo Almeno io e te Dove si passava Ho qui tutta acqua Non c'era l'acqua prima Liezar Adesso Allora Dobbiamo riuscire a attraversare E andare Dritti di qua Vado Eccolo Ce l'ho fatta Liezar E' servito? Non è servito un cazzo Ragazzi Non era lì Ho sbagliato? Liezar Ma non è servito Non è servito Le luci sono di là Cioè per carità Si fa eh Ah è giusto Posso andare sul bordo qua Qua Sicuro? Vieni qua c'è il capo Ah ok Ma è salito un sacco L'acqua O? Si Ok Ok C'è tanto acqua Allora Marce Che paura Che paura Dai una teiera Che paura è delle bottiglie Aspetta abbiamo il teletrasporto No Però possiamo comprarlo Possiamo comprarlo No Non c'abbiamo niente La direzione era giusta La direzione è giusta quella lì Se vai dritto Se vai dritto Ma dove cazzo sarà Dove è uscito Esprit Scusa che Ah sono le luci quelle Che rumore fuori Tabbo Ritabbo Posso fare esca Ok Dove ho alzato un po' Gli ezzar Oddio C'ha la molla in testa Poverino Siamo partiti Sì sì Ecco qua Oh abbiamo un sacco di soldi Socia E non perdiamo niente poi Boh Andiamo a andare E comunque prendere il teletrasporto E comunque prendere il teletrasporto Uno abbiamo Eccomi Va bene Eh ma c'hanno 22 euro Boh Dobbiamo andare Comunque mi hanno attaccato in tre Ma c'era due molleggiati C'era molleggiato con Esprit Un molleggiato con me Poi mi è arrivato lo slime E anche quello con le gambe E la testa No Adesso non ho più la luce quella bella Eh Marco Ma te ne compro tre Quattro cinque C'ha milleseimila euro abbiamo Non ci facciamo niente con sti soldi Ci compriamo il bagno Ci compriamo il Bangladesh Ma se qualcosa la teniamo sulla Volendo E Marco Tu non hai venti dai Tu vuoi la doccia Vorrei comprare la doccia Abbiamo qualcosa dai Abbiamo un po' troppo i cavi secondo me Massima venti Abbiamo le palle Una chiave la vendo Come è possibile che abbiamo ancora 833 nella nave Scusate Ma per le pale e le cose In realtà non ci abbiamo tutti sti soldi Sta roba teniamo Teniamoci un po' di Teniamoceli Teniamoci Fai una pistolina Una pistola Torniamo sotto c'è un manello Quindi mi ricompri le torce O prendo uso quella verde Stiamo tenendo 500 Teniamo 500 Ma credo conti anche le torce Con le robe lì Comunque Quindi non sono proprio 500 Grazie Darione Grazie mille Darione Che sennò posso usare anche quella verde Che dura poco Più che altro Ah no Sono 163 Perché se portate qua 166 e la nave 539 Quindi qua è 166 Grazie Darione Grazie da tier 2 Com'è così poco No ma 166 Non è non è non prende niente Qui non è 166 Non prende tutto quanto Non prende tutto quanto Eh no Anche perché non è che abbiamo così tanto Ma no Te lo fa vedere Ma poi le torce non va E' un po' di soldi Grazie corvo Ma andiamo Grazie corbazzo Quanti corvi Quanti corvi Oh Eeeh Ma che c'è un laser qua Ah è vero bisogna vendere roba Eh però meglio Tanto dobbiamo andare Prima su dobbiamo andare Eh ma quello è bastardo No c'è roba lì da vendere Eh vado venderla Ah no Già fatto Già fatto Gagato addosso rinse salir rispondendo i apps ti piace moro si modo morte alla roba prima cagai non ci abbiamo pensato e via uno ce l'anna lira No, non è vero Quelli lì ce li aveva già dati Quelli Ha il tronco, eh E' il 122 Eh, occhio, tieni sempre per andare sul pianeta Allora, andiamo su Rand Perché Titan, allora, Titan è l'ultimo Quello con la scala lunga che va in cima Però dentro è Il normale Capito? E non mi stanno cacando No, vai su quello Su Titan? Guarda il culo No, su Titan, io non mi ricordo Quello prima, Dine, che era quello di adesso E' Eclipsed, quindi direi di no No, andiamo su Titan, non è che c'è molta scelta Se no c'è Rand Sì, che c'è molta scelta, sono tre Rand è quello con la sempre casa infestata Come adesso Eh, andiamo a Rand, allora Oh no Che cazzo vuoi? Non si vede Era molto divertente Quanti soldi ci sono rimasti? Sei miliardi Allora Eh, qual è? Ma non serviva Non cazzo tanto Cioè, se richiami il cadavere Comunque ci perdi soldi Non è che serve a niente No, ci perdi cinque No Ho preso anche una radio Cinque Cinque quanto lo puoi No Cos'era? No, però si ricordo che richiamare il cadavere Serviva qualcosa Salvarlo non ti fa perdere le cose Cioè, non ti fa perdere i soldi Non ti fa perdere i soldi Perché ti toccano i soldi presentuali In teoria Sono un po' i cadavere Mi pare Allora Quindi la cosa più utile è quella Non ti togli i soldi Ok, quindi teleporter Quello normale Poi, boh, va Prendiamo torpi C'è roba come di Ma è che se salviamo i torpi Non serve neanche spedere tutto Smettete con la luce Che mi viene l'epilessia Smettetela Scusa Zapgun cosa fa? Non serve a un cazzo No, ma è la live, Marco Non è che moro anziano Ma non è la vedi Se recuperi il cadavere Non ti danno la precettura Zapgun Ma non serve a qualcosa La Zapgun È per stordire i nemici Sì, però Ti perdi No? Stordisci i nemici Poi li picchia in mani Deve pare, non so Ma Marco scappa Se c'ha qualcosa per difendersi Ma infatti è scappato Anche oggi Scappato la rotina Bastardo Ma non è vero No, non è vero Per la Zapgun non c'ho i soldi Io contro tre Bastardo Troca prendere L'unica è prendere la La doccia Dov'è la doccia? Tanto ho tolto la doccia Sì, c'è No, moro No Scorri, moro Scorso Come si dice? O scorso, è giusto? Ma questo è una doccia Non mi si chiamava Non c'è Ma cosa serve la doccia? Non serve a niente Spero che aggiungano Che robe utili Vai, moro A posto così Andiamo Vai, scendi Ci penso io Bello Si sta Non è che la diamo già La doccia Guarda, si è piastratta No, non c'è Non c'è la doccia Accendete le torce Devo ricaricare però Le torce Non sono cose di me Eh, non le ho prese le altre E queste durano un pochino Dai, ma tanto qui Si fa svelti Su Vai Adesso non trovi più Oddio, sono stanco Oddio, oddio 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 Corro Non so se era il lizard a respirare O c'è già qualcuno Ah, era il lizard Ma è una dentiera? Chi? Questa si Ah Pensavo il lizard fosse una dentiera Ho detto no Non lo è Esprey, dove cazzo è? Scusa Ah, è lì Sono arrivato Sta buono Succa Qui c'è la Parenzi Fa bene usare questi Questi cetrullini Oh, ma qua c'è una tragedia Una maschera L'ho sentito? Stavano usando dei cetrullini Scusami Cioè potrebbero benissimo essere stronzi alieni Questi cetrullini Aggiungere picli Oddio Pazzo con questi dentieri Aggiungere pikmin Non c'è un cozzo qui sotto Dobbiamo andare sotto Sopra volevo dire prima Dai Chi è lì? Chi è? Non c'è nessuno Andiamo via Andiamo via Perché? Cosa fate? Come sei full? Sono full E io? Ma tu lizard dove sei andato? All'ingresso a sinistra Eh, siamo tutti lì Ma non ho trovato uno sego Ho trovato mascherina Stavano dietro la moto Stavano Ma perché me li metto nel naso? Stavano a 4 Oddio mio Sei un ragno Non entro mai più Mi ne vado io E' proprio qui è Sprit Fermo Ah si esce Moro Mi ne vado io Questa luce Ma basta Solo questo Ma che morti di fame Che siamo però Io ho 4 robe Io ho 2 Mi metto fuori Mi metto fuori Mi metto fuori E rientro C'è qualcuno Alla nave Io sono alla nave Guidaci Vedete il paolo di merda Al fondo c'è ragnate E' un tiro di roba Questo ve lo posso dire Non lo so Marco E' pieno di ragnatele Mi sembra una cazzata I triangolini Sono oggetti Marco Dimmi se ci sono Qual è la cucina? E' chiuso qui Sopra No perché Da dove si è andato La parete dopo C'è la cucina con due oggetti Ma mi sono Puoi passare Morso l'occhio C'è altro oltre la lampada per terra? No Lì era pieno di roba Da guarda C'è andata C'è andata C'è andata C'è andata C'è andata Scusate Avevo le mani di pasta burro Mi guidate verso l'uscita adesso? C'era una lente di ingrandimento Aspetta che c'è una lente di ingrandimento Andata C'è il fusiliero C'è il fusiliero Io me ne vado Vaffa a cura Vaffa a cura 49 30 82 12 L'airbrush Non me ne frega un cazzo L'airbrush Moro io non vedo l'ospita Non so come dire Ti devo uscire Vabbè quando mi avvicino Dai Prova a rifare Finché ti ricordi Tutto Arretrono Ho sentito uno di quei bastardi Ho sentito Non vedo niente Abbiamo il teletrasporto No Rosario Non mi ha detto nulla Marco stai zitto Oddio C'è lo spaggia abiti C'è lo mino in peace Ragazzi Adesso cosa faccio Poi c'è la sala Oro Poi c'è la sala Poi c'è la sala però Controller connected Disconnected Di chi? Scappa a sinistra Eh ma a sinistra c'è lui A sinistra c'è lui C'era uno di voi Vedo l'uscita Ma chi era di voi? Arrivo ci sono i cani in giro Parti 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 No 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 chiudi Chiudi basta Chiudi basta Chiudi 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 Ma partiamo? No C'era accattare Esprit Ma Esprit era quello che è stato sparato in faccia quindi Ma perché è entrato Esprit? Eh non lo so mica io Voleva altra roba Ho sentato Esprit Eccolo qua Possiamo andare Un po' molliccio eh raga Scappate scappate veloce 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 Eh non è tanto qua lo parto Uff Dunque grazie Raboborio e complimenti Chiara Grazie belli grazie a tutti Si e complimenti Chiara Che ha fatto Chiara? Ha fatto la magistrale Godoyce Brava La differenza nostra Ma cosa vuol dire Esprit è rientrato? Io non sono mai uscito e ti ho chiesto tre volte dove ero uscita che mi sono nemmeno perso Bastardo Sulla nave sono entrate diciotto persone e probabilmente era sempre l'Header Tipate il minaccio e non teletrasportate il minaccio Anche vedo il nome io E cosa vuol dire teletrasportate il minaccio? Vediamo se perdiamo gli oggetti no vai? Sii abbiamo già fatto di perdiamo tutti Eh si che li perdi Sei tu? Non posso teletrasportare qui non siamo ancora a terra Ah vabbè quello scendiamo Ma padre l'abbia già fatto gli Ezers test E allora a posto Devo mettere un po' di dentifriccio di Infatti non conviene a me che non devi salvare da nessuno E' po' di dentifriccio di Eh riscendiamo qui quanto abbiamo? 1.600.000 1.000.000 Eh riprenditi Ah ma lo qualche tolchi non ce n'era ancora Eh compriamo quant'altro di soldi ne abbiamo Eh ma devo comprare il pigiama gli Ezers non possiamo prendere una torcia Abbiamo un po' troppe chiavi Vabbè Basta te chiavi Marco 224 Vabbè compriamo Bisogna dire buttarle via demente o le vendi o le vudi Eh devi tenere troppe chiavi Eh non so Marco Vabbè dove vi faccio Eh portiamole quello sto dicendo Ma siamo atterrati però? No sto aspettando che Grazie ferix Grazie ferix Ah eccolo Chi è? Ma non lo posso spostare da qui però? A parte che qua porte chiuse non ho mai beccato Non lo si può spostare da qui Basti toccarmelo è il mio Ma posso spostarlo? Si E quindi come si fa? Eh è così Aspetta cosa serviva un walkie talkie? C'è un buon cazzo Cosa vuol dire Simo fare il test del teleport? Funziona funziona Ragazzi ha fatto il teleport Tipo quattro life run Non so che ho Tre Ho preso tre walkie talkie Prendi tutto per forza Prendo anche Non lo faccio dall'altro No in realtà servivano più le torce I walkie talkie ce l'abbiamo In realtà ce l'abbiamo In realtà ce l'abbiamo 27 miliardi Ma abbiamo i walkie talkie Ma come è vero? No le torce quelle buone non ce l'abbiamo Eh ma io non walkie talkie Ma non ce l'ho proprio Eh ma non ce l'ho proprio Eh ma non ce l'ho più Eh ma non ce l'ho più Eh ma non ce l'ho più Ah tre no Eh ho preso tre Anche tre torce pro ho preso Biri 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 Con G si può... no con G droppi la roba chi è che ha messo questo giù c'erano anche le torce dentro no ma c'erano solo i tre walkie talkie nella cosa che arrivano a eccola ce n'è una prendetela anche l'altra si ho preso tanto prese tre andiamo andiamo questo era un jingle che vi ho dedicato perché voglio molto bene chat siete la mia chat preferita pensate incredibili ma c'è già una lampada e un toothbrush e una snorlax vado sotto e c'è il ragno sicuro e devi saltarci da sopra se c'è una scala oddio ragazzi sto facendo il reboot di una scena c'è allora c'è il mangiateste pezzo di merda quello che ti avvolge e poi c'è il burattino da qualche parte lo sento abbiamo un po' troppe chiavi marco è parlato due volte insieme non c'è il muratore poi che muratore si sta spostando il muratore è arrivato qui da me è tornato indietro niente ma pezzo di cazzo mi ha sparato il bastardo sono così morto posso imparare ovunque oddio sta camperando proprio l'ingresso lo aspetta che spara con i trenti si sta venendo mi sa da me lo provo a grabbarlo oh vieni qua sento anche il ragnazzo eh oddio mio no vieni via se il cubo di rubio si sta arrivando su testa sta salendo putta putta che ammazzo uomo putta fanculo scappa 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 ma non c'è la fire exit magari eh non c'è la fire exit magari e che cazzo ne so non lo so non ho esplorato una sega io no qua di fuori eh non ah beh si ma non ho idea di dove sia da fuori da fuori non vedo niente questa da fuori ma in entrance me la segna laggiù vado a vedere esprit no è scomparso non la vedo più mi sa che era bugato ma non c'è niente Oh pota, oh pota, pota, pota C'è il vermone Eh l'ho sentito Esprit dove cazzo sei finito Non si vede niente con Vai, vai, segui quelle luci di merda Attento che c'è il vermone, te magna, te fa come un pappone Ok vai un po' più a sinistra Il vermone, sotto di noi Ho sentito, ho sentito Andiamoci, andiamoci, velocemente Oh ma non ci fa niente Ma vai pota, ma vai pota Ma vai pota su, scendiamo giù un'altra prossima volta Ma comunque c'era una stanza con lampada grande, quadro e bottiglie Che cazzo Maledizione Troppa roba Troppa roba Ma sono qui Cos'era? Eh mi sono un attimo steracchiato No, gli hether non farlo Le dichiaro meglio io Che mi steracchiavo E ti lamenti E poi cosa succede? Questo Vai, sendi, sendi E go 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 Non è stato censurato Caricate le merde Con B oppure con G oppure con lo stasso dell'armadio Perché la B, eh, la B ma non funziona Un cazzo C'ho già provato con la B, eh Andiamo, dai Andiamoci Oh putta Oddio Vai, siumma, siumma Non abbiamo guardato il meteo Com'era? Mi sembra normale Sarà No Potta Io vado qua Ricaricato 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 Ma mi sa che ormai Cioè, capito Forse non fanno l'aggiornamento Siamo diventati troppo forti Figa Cioè Non c'è più alcuna possibilità di morire Potta E anche più il divertimento della morte A destra, eh, Fritz La porta E l'estremo Eccola subito un cubo E basta Ma non c'è niente Io ho delle pillole, ragazzi Ci troviamo Per forza sotto Qua lavoro è droga di Marco Potapò 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 Sarà di qua In questo posto di merda Qui c'è qualcosa Nasconde qualcosa Sium No No, non nasconde niente Va, 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 va Eeeh Va, va Cazzin No, mi hai spaventato Sium È vero però Io effettivamente potrei comprarli con quelli Visto che non li sto usando per un cazzo I soldi di Google C'ho nove euro Potapò 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 Eh, una maschera di Zellig Una mug Una mug Una key Una key Vedete una porta chiusa o una key Una key Che stupidi Oh Grazie Seba Ho trovato la fire exit Ho trovato la fire exit Ma se non ricordo mezzo male Sono uscito dalla fire exit Sono da solo su Ma se Dove faccio a capire dove merdaccia andare Della fire exit In sto pianeta di salvia Mauro c'è un oggetto forse Non è vero scherzavo C'è un oggetto ancora dietro il test Mi da un triangolo Lo zapevo Lo zapevo Ho trovato la strada della fire exit Bravo Non avete portato la cassa Non avete portato la cassa Vado a prenderla Non è il filo di Luca Espre Dalla fire exit Appena uscito con la porta alle spalle Devi andare un pelo a destra Per salire Ma poi devi andare là Ragazzi ma qui c'è una lampada All'entrata da venire a prendere Eh si è la mia quella Amoro dove sei tu? Eh sono andato a prendere le robe all'ingresso C'è roba Ma qualcuno ha fatto Oh oh Espre ma ti serve una mano con qualche oggetto alla fire exit Perché io so come arrivarci C'erano 7 miliardi di soldi Allora dietro di te c'era un altro oggetto se continui E' qui dritto vai dritto E' qui dritto vai dritto Oh zio mio Espre Vado via vado via vado via vaffanculo vaffanculo Allora Espreet vai sulla destra Non di lì Sali qui a destra No sali 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 Poi gira a destra Ancora a destra Aiuto ragazzi Ancora a destra Ok dritto così Eh vabbè circunnavigalo Devi fare quella direzione lì Devi stare Ok da qua poi gira a destra E' così dritto Ma non ci sente quello grosso se parliamo No quello grosso no Sono i cani quelli con la bocca larga Dai vai dritto vai dritto e ci arrivi eh Un po' un pelo più a destra Oh C'abbiamo 7 miliardi di lampade ragazzi Che cazzo 2695 Andiamo a vendere un po' Povo Gamer l'ha regalata la nuttina Grazie Ma chi è Povo Gamer? Esprit è il tuo secondo profilo Povo Gamer Eh Vabbè ti avessi Trovato ancora alla capiva Non so Forse meglio Esprit Po 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 t problèmes No, compagni. Possiamo fare due quote consecutive. Chi è? Vogliamo fare due quote consecutive? E non puoi. E saliamo sui ricendiamo? Eh no, ti dà il 70% in meno se consegni il primo giorno. Ma ci basta comunque. Ma non vuoi chiedere di fare le quote, ma vendiamo tutto il compagno. Eh ma la prossima ti chiede 700. Ma non c'è niente a comprare. Ma compri tutto, Lidda? Tutto? Ma non c'è niente. Io compro tutto, Lidda. Voglio comprare la Zap Gun. Voglio comprare un mitra. Io voglio che mettono le armi per difendere. Ti compri cos'è? Fammi vendere le chiavi, non le voglio più vedere, bastarde. Compri il radar booster. Vendiamo tutto, Lidda. Lautaro Martini. Ma io, sentite anche voi che mi brontola la pancia? Sì, sì, è il mostro in teoria. Ma non lo fa però, di solito. Non così tanto, effettivamente. Ma vogliamo tenerci qualcos'altro per sicurare... Forse abbiamo troppi soldi e gagato? Allora, se prima le vendete, poi bastardo. Vendiamole, sono troppo pericolose le maschere. Non si può vendere più. ZOZOZOZ! Fermi, eh. Non vendiamo tutto, il resto teniamo... No, no, tutto, tutto. Tutto c'è di maschere. Ma tutto, Marco, tutto. Devo comprare ogni cosa che c'è, Marco, basta. Ma non serve a niente. Non si risparmia, Marco, nella vita. Devo spendere i soldi. Sì, che se risparmia, poi moriamo come degli altri. E' divertissimo, Marco. Se che succede se metti la maschera in questo pianeta, toccherebbe provare, effettivamente, ragazzi. Quanto è... Le ho già vendute tutte, mi spiace. È un po' infastidito oggi. Però... Però potremmo mettere una maschera, eh. Cazzo, fosfolipido. Non si può mettere niente. ZIS! Cazzo, posso... Ti trasformi, Marco. Grazie, fosfolipido. Ti trasformi, Marco. Ti trasformi, Marco. Ti trasformi, Marco. Ti trasformi, Marco. Io continuo a dire che a vendere tutto non serve a niente, comunque. Marco, confiamo tutto a te le cingere. Ma non c'è niente di interessante. Ma Marco, bisogna divertirsi. Bravo, bravo, Esprit. Bravo! Ma che divertimento è comprare le torce? Mi piace, mi piace. Voglio un altro peluche. Ma poi c'è anche il... Il boost del roccio, una certa faccia. Dio, che puro guarda. Ma si sbriga sto fuori? Non ci guarda, guarda. Non ci guarda. Non ci guarda. Non ci guarda. Si sta mettendo più per vendere la roba che per far la spedizione del culo. Eh, c'è ancora roba? Eh, non ci cacca. Tipo, cos'è il... 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 E dai, però, e lavora. Pezzo di merda. Penso io moro. Eh, hai fatto subito, Marco. Bravo. C'è detto? C'è detto? Anche questo, c'è affezionato. No, la peretta, no! C'è una affezionata. Ma Roma è andata. Non si può prendere, no. Moro, non rischiare, non rischiare. Moro, smettila. E ce l'abbiamo già qua, la tutta. Ok, vabbè, a chi ti racconto con l'infero, non c'è una... Eh? E prendiamo tutto. Mi prendi... Mi prendi subito la Zap Gun? Non prendiamo il 3 Porter, me lo direi io. Già, abbiamo già, ragazza il cast. Ah, l'altro, dici. No, l'altro, dico. Sì, sì. No, prendi la Zap Gun. Grazie, Luca. Grazie, Luca. Dai, dai. Come, certo, costava 400, costava. Eh, è scontata, eh. Bestia. L'ho preso, ho preso, adesso lo faccio. 2806, proprio. E poi andrei anche... Moro. Ah, dice che abbiamo ancora... Ah, la piava. Moro? Eh. E poi andrei anche... Il... Che è qua. Il radar booster, per vedere come funziona. Prendi, prendi. Il radar booster. 60, posto. Aspetta, devo fare una cosa. Aspetta, devo fare una cosa. Vai il tavolo per un po' di... Oddio! Oddio! Orelli? Oddio! Metti via, Moro, metti via! Ma cosa serve? Cosa serve? Cosa serve? Cosa serve? Se si è rotto... No, aspetta, riprovo. Oddio! Ma non fa niente. Ma che serve? Che serve? È un zap gun. Ma che fa? Tutto. Allora, mi... Mi viene fuori, tipo un quick time event dove... Devo muovere il mouse a sinistra o a destra, ma non capisco. Oddio! Ma hai diventato la... Ah, ce l'ha giusto. Cos'ho la giusta, mi madre. Questo è più divertente, però se posso. Mi hai fatto male! Che fai il saluto? Ah, scusa. Eccolo qua. Lui, lui, lui! Premi lui! Buonaspetta. Canto possiamo... Non sa che hai preso? Lo posso spostare? No, lo potevo spostare per un attimo. Cosa ve l'hai fatto che c'è questo? Che cazzo ne so, eh, Lidzer? Poi togliamo... Ma cos'è questa roba? Sicuramente è un tavolo. Ah, è un attivo però, aspetta. Ecco fatto. Ah, quello è il radar... È il radarcoso, eh, no? Il radar booster? Eh. Come avete fatto a togliere il pupazzo? Eh, l'ho messo di là. Aspetta, il welcome lo metto qua. Spostare il tavolo, ok? Aspetta, il tavolo... Che fa solo il pupazzo? Metterlo un po' più in qua. Il pupazzo spostiamo questo. Ma se abbiamo ancora due miliardi di soldi... Ma Sorcio, io lo proverei sui mostri con la pistola lì, eh? Io sono sicuro non faccia nulla. Scusa, ma è un gioco ad aria? Vuol dire che io lo puttavo dietro? Sì. Sì, non so il problema. Allora, eh... Dai, andiamo in un pianeta. Abbiamo 7000 soldi. C'è il lockpicker anche che possiamo prendere. Il loudhorn prende un po' di nuovo. Ma possiamo prendere più robe, Moro? Tipo più per l'uscio, più... Ah, penso di sì. Andiamo. Prendi il loudhorn prendi, assolutamente, quello. Levate dal cazzo un attimo che devo prendere, dove dobbiamo andare. Non posso mai stare reaggianto, Moro? Andiamo su... Basta, troffiso. Andiamo su March. E infatti, infatti, rispendiamo tutti, rispendiamo adesso. Prendiamo quattro, due tracce per tutti. Che schifo è sto qua qua, probabilmente è più brutto che devo trovare dietro. E atterrate pure? Ciao Gianluca. Sono Tuno Marzo? Jetpack mi sarebbero preso, ma era una merda. Fa vedere, dov'è. Jetpack... Pupazzo. Due. E che sbatte? Basta di sbattere, oh. Scusa. Vado, prendi tutto, vai. Allora, vado con la mia Zap Gun, ragazzi. Chi la dura, la ciula. Che bella la tuta gialla. Grazie. Aspetta, ma lo devo caricare la Zap Gun? Prendete il Jetpack. Lasciamatemi ne uno. Marco, mi fai usare il Jetpack? Oddio mio! Me lo fai provare? Me lo fai provare? E come faccio? Fai le capriole, occhio. Oddio. Esploso, godo. Come godo, guarda. Come godo. Come godo. Come godo. Come godo. Come godo. Andiamo via. No, è la mia spistola. Andiamo a luttare qualcosa prima della cosa. Ah, disegni piselli. C'è la pistola lì. La pistola... No, è lì, è quella la pistola. Cosa c'è lì sopra, nell'angolino? Ragazzi! Ragazzi, la Zap Gun è lì dietro di voi, forse. Ah no, è una cassetta. Questo rumore è terrificante. Vabbè andiamo? Una cassetta era. Vabbè l'entrata qua? Ma lì c'è il mio cadavere? C'è il mio cadavere là, magari c'è la Zap Gun. Andiamo, andiamo. C'è il mio cadavere. E poi come torniamo a casa però? Non lo so, Marco. Non più o no. Eccoci, pronti? Facciamo un effetto, Marco. Dai, stiamo pronti? Sì, stiamo guardando la Cimita. Dai, iscriviti, iscriviti. Chate, ditegli... Aspetta... Un show media, eh? Fatemi cercare intanto a me la... Che qualcosa? La conference. Che? Ah, vabbè... Dove andiamo? Non è il caso, Simone. Simone, non è il caso. Simone! Simone! Allora, andiamo via. Ora... Che è? Bastardo! Ehi! Ma non basta! Ma poi fa tutto il fumo. Andiamo... Andiamoci utili, per favore. Facciamo qualcosa di interessante. A posto, Marco. Perché sei? Sì, sì, sì. No, ho finito l'energia. Ah, lì si può entrare, però, eh? Dai, chiudo. No. E torniamo indietro, lui mi ricordo già più la stava. Eh, qua. Però, aspetta, cercavamo lui l'entrata che ci fa. Non ce lo vedete. Mauro, arriviamo, eh? No, sto andando dietro, Marco. Ma qua, per tornare nella strada, è ottimo, però. Ho perso dieta. Dai, Marco, è un po' lo stesso. Dove sei? Ecco, ti è... Chate, ditegli 4 minuti, eh? 4 minuti. Ma c'è niente, non c'è. Merda, c'è qui. Non trovo quella mia. Marco, ma ci sono due Fire Exit. Non è possibile, scusa. Scusi, niente. La stessa è pazza. Non c'è. Ecco. Stai impazzendo, eh, Sprit. Non ritorniamo la nave. Avete preso oggetti, qualcosa? Sì, mi ha preso qualcosa. Non è qui, però. Sì, sì. 3 minuti, ragazzi. Anzi, meno di 3 minuti. Meno di 3 minuti, eh. Oddio. Espe, ritorniamo la nave che chiudiamo. Quanto sono assoluto, almeno. Ma è fuori di sotto il tuo Marco. Ma ho pitturato gli Ezra. Sì, Ezra. Che non va più, sta roba. E ora ricaricarlo. Ma Ezra, sei tutto pitturato? Perché non va più? Vieni qua un attimo, mi sa che t'ho spaccato. Sei chieduto più di me. Ah, adesso, guardiamo. Aspetta. Sei tutto sporco. Ma c'è un generale. Ma cattiamo il cadavere, il moro. Chi è Albert? Ma bastardo. Chi è Albert? Bastardo! Chi è? Dov'è? Chi è Albert? Albertone! Ma dov'è? Chi è questo qui? Cos'è il coso che abbiamo messo? È la zucca? Chi è il tuo culo qua? Ma è Albertone! Ah no, è il radar! Albertone! È gigante, mi sa. Vabbè, andiamo. Andiamo. Oh, un minuto e trenta? Che libertone! Cosa è la maschera, forse? Ma c'è Moro? E' questo? Eh no. Questo sarà... Sì, è Moro. Sì, Moro va alla cosa gialla. Ma lì è da rimarrà per sempre spaccato dalla mia... Eccolo! Anzi, un minuto, eh, inizia, eh. Ok, dai. Andiamo, ce ne andiamo. Abbiamo fatto pochissimi toldi, bro. Dai. Eh, vabbè, dai. Peccato per la mia Zapgan da 400 euro. Andiamo sul pianeta costoso la prossima volta. Vai, usciamo. Dai. Pippo, pipo, 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 pipo. Allora, buon cazzo. Il Lynx? Ce l'ho messo in chat, ve l'ho messo. Allora, buon Lynx. Tanto ero morto, quindi... Tanto a me è soldo di Sigson. C'è, 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 Sigson. Seguila comunque che... E accelera, vedete, fai tutto. Mi vado a fare un attimo pipì, intanto c'è la luna. In realtà, mi ne frega talmente tanto poco di Sigson ormai che anche se esce, guarda, sono tipo da va bene. Ormai moro, cioè, sono 50 anni, ormai cosa vuoi fare? Dai, levati dalle palle dalle webcam che effettivamente... Dai, 5 euro? No, non ti do una lira, ti do un pugno se vuoi. Va bene. Ottimo. Dai che stai partendo. Dai, ciao Mauro. Ciao Ashtrick. Ciao, ciao. Little Company, prossimo domenica. No, domenica che...